E noi iniziamo con Yuri Speriamo? Bravo, salta qua 23 Date gli 23 top nel fuoco Oh, prendetelo, mi raccomando, eh 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 Ok gente, questo è un progetto molto importante della serata perché voglio vedervi dividere i due gruppi ai dati della stanza facciamo un bel test wall per il piano, la serata meglio porta, porta, tutti quanti, non voglio vedere più di questo, ti voglio fare male perché porta, o a sinistra o a destra l'unico è messo, bravo L'unico è messo Non mi sento, non mi sento!